Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Lutto nel mondo della ristorazione italiana, il celebre chef è morto improvvisamente durante la notte, lasciando tutti sotto shock. A 79 anni, era noto come il titolare del rinomato ristorante Da Nicolò sul lungomare Battiglieri di Carloforte, aperto nel 1960, è stato colpito da un improvviso malore che ha reso necessario il ricovero d'urgenza all'ospedale Brozzo di Cagliari, raggiunto tramite l'isoccorso. Considerato uno dei re della ristorazione sarda, aveva servito numerose celebrità italiane e straniere, tra cui Giorgio Armani e Gianni Agnelli. Per oltre 50 anni, è stato un pilastro della cucina sull'isola di San Pietro, nel sud-ovest della Sardegna. I suoi figli hanno continuato a lavorare con lui, mentre Luigi Pomata, noto volto della cucina televisiva, ha portato avanti la tradizione di famiglia nel suo ristorante a Cagliari. Uno dei piatti più celebri erano, le linguine alla Nicolò con capperi, tonno, olive e pecorino, è diventato famoso in tutta Italia e nel 1973 è stato incluso tra le migliori 100 paste dalla guida Barilla. Parliamo di Nicolò Pomata, e tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia. Ricordatevi di iscrivervi al canale e per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.